Il coronavirus è solo inizio, principio di una più grande tribolazione. Questo è un messaggio di Assisi, la città di San Francisco, un messaggio profettico, una vacuna contro il coronavirus. Eccoci, questa vacuna contro il coronavirus è la migliore vacuna. Questa è la parola di Dio, dice, che il che abita sotto la protezione del Altissimo e mora alla sombra del Todopoderoso, dice a Dio, tu sei il mio rifugio e il mio Dio, in cui confio. Il te libera dalla rete del cazador della peste exterminatora del coronavirus. è la parola di Dio, è la parola di verità. Di nuovo, dice a Dio, tu sei il mio rifugio e il mio Dio, in cui confio. è il tempo di fede, di orazione, di penitencia. È il migliore, è la migliore vacuna, la fede, l'orazione, la penitencia. È il migliore, è il migliore.